Dopo disperate ricerche che hanno avuto inizio sabato notte, la polizia di stato ha salvato una giovane donna che proprio quella notte si era persa nella vallata degli Ippari. A dare l'allarme è stato il marito al quale la donna aveva telefonato per chiedere aiuto. Nello specifico, all'1.40 circa di sabato scorso, un rumeno di 43 anni ha contattato la sala operativa della questura, riferendo ad aver ricevuto una telefonata dalla propria moglie che chiedeva aiuto dopo essersi persa senza saper indicare il luogo in cui si trovasse. Dopo l'allarme dato dal marito, sono subito scattate le ricerche da parte delle volanti del commissariato di Vittoria e contemporaneamente la sala operativa provvedeva a contattare direttamente il numero di cellulare della donna, fornito dal marito allo scopo di avere indicazioni più precise sui luoghi. La donna, molto impaurita, quarantenne rumena, ha fornito una descrizione vaga dei luoghi intorno a sé, precisando di trovarsi in un luogo buio, in un terreno incolto, circondata da alberi, di vedere delle luci solo in lontananza. Le pattuglie, in costante contatto radio con lampeggianti e sirene spiegate, cercavano di diffondere segnali sonori e luminosi al fine di essere visti. La donna, infatti, riferito di non notare ancora né lampeggianti né di udire il suono delle sirene. Solo intorno alle 2.30 i poliziotti, grazie alla conoscenza del territorio, hanno capito il punto della vallata dell'Ippari in cui la donna doveva trovarsi ed effettivamente in lontananza cominciavano ad udire una voce che chiedeva aiuto. Gli agenti, a causa dell'inaccessibilità dei luoghi, sono stati costretti a lasciare l'autovettura e a incamminarsi ai piedi giù lungo la vallata. Lì hanno preso finalmente contatto visivo con la malcapitata che però si trovava sulla sponda opposta del fiume. È stato quindi necessario prendere le esatte coordinate GPS del luogo e chiedere aiuto ai vigili del fuoco. La donna è stata quindi presa in braccio dagli operatori intervenuti e trasportata fino alla sede stradale dove era nel frattempo giunto il personale del 118. Alle 4.50 circa, finalmente, la donna è sana e salva, affidata al personale medico per le cure del caso a causa di una lieve ipotermia e per gli opportuni accertamenti sanitari.